Presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara il SARI, il Supporto Specialistico Registro Imprese, un servizio che persegue un duplice obiettivo, da una parte semplificare la vita di imprenditori e professionisti e dall'altra accelerare i tempi di risposta degli uffici riducendo così il numero di pratiche sospese ed uniformando le indicazioni normative tra tutte le Camere italiane. Prosegue in questo modo la spinta sul digitale della Camera di Commercio Chieti Pescara. E' un adeguamento perché la Camera di Commercio, il sistema camerale, non parliamo solo della Camera di Commercio Chieti Pescara, il sistema camerale ha interesse a stare sempre più vicino alle imprese, tagliare quel tabù che il pubblico non funziona e come tale la richiesta che viene dal mondo imprenditoriale, da me in primis che sono un imprenditore, semplificare per quanto possibile. Questo nuovo strumento limita ai minimi termini la presenza presso le Camere, consente l'utilizzo dell'informatica per tutte le pratiche possibili e sono convinto che daremo un ottimo contributo al sistema. Ma oggi lo presentiamo noi qui come Camera di Commercio Chieti Pescara, ma è una ricchezza del sistema camerale. La Camera di Commercio di Chieti Pescara ha deciso quindi di attivare questo strumento di semplificazione che è l'acronimo di servizio assistenza registro imprese. Trattasi di una piattaforma web nella quale quindi troviamo delle schede con tutti gli adempimenti relativi quindi al registro delle imprese. All'interno quindi di ciascuna scheda è possibile quindi trovare tutte le informazioni utili per la presentazione della pratica, i riferimenti normativi, i costi, la modalità quindi di compilazione della pratica, i soggetti quindi obbligati. Questo ci consente quindi di far sì che arrivino delle pratiche quindi corrette che vengano evase in tempi più rapidi, quindi una riduzione anche di tempi da parte quindi dei professionisti, delle imprese, delle associazioni di categoria e anche quindi da parte del personale camerale.